Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. La perturbazione che ci ha interessato nelle ultime ore determina sulla Liguria. Ancora una giornata all'insegna del freddo e del vento. Domani mercoledì ancora nubi per una perturbazione diretta sull'Italia centrale che lambirà la nostra regione. Giovedì nuovo peggioramento con pioggia e neve a quote collinari sul centro ponente. Il dettaglio oggi martedì 13 dicembre coperto da nubi compatte che si apriranno solo localmente in serata. Possibili rare e deboli precipitazioni con qualche fiocco di neve nell'interno. Venti da settentrione moderati o forti in parziale calo la sera. Mare mosso stirato sotto costa. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 5 e 9 gradi nelle zone interne tra 0 e 7 gradi. Domani mercoledì 14 dicembre in mattinata cielo coperto e deboli pioggia ponente. Nel pomeriggio disordinato miglioramento con nubi diffuse ed effimere schiarite. Venti da nord anche forti in lento calo la sera localmente deboli variabili. Mare mosso localmente molto mosso in aumento da sud ovest la sera. Temperature in aumento nel corso della giornata. Minime lungo la costa tra 2 e 5 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 2 gradi. Massime lungo la costa tra 6 e 12 gradi nelle zone interne tra 3 e 8 gradi. Dopodomani giovedì 15 dicembre il ritorno del maltempo con nubi diffuse e precipitazioni deboli o moderate che in mattinata si estenderanno da ponente al resto della regione. Possibili nevicate nell'interno del centro ponente a quote collinari. Venti in prevalenza da nord fino a burrasca ponente da est fino a forti elevante. Mare mosso molto mosso. Temperature in aumento nella prima parte della giornata stazionari e la sera. Minime lungo la costa tra 3 e 7 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 3 gradi. Massime lungo la costa tra 8 e 13 gradi nelle zone interne tra 3 e 10 gradi. È tutto. Seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it sulla pagina facebook di arpal sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare dell'app meteo 3r disponibile su google play e apple store. A risentirci!